Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 14 luglio. Ariete, la luna in cancro crea un sestile con venere favorevole in leone, rendendo la giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri. Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia di vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza. Gemelli, la luna nel segno si accosta a venere in leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi e appassionati, beato che vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina, riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese. Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente importanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte, non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione. Leone, venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in amore. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo. Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi. Piuttosto, circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostri non stima. Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore. Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi. Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Venere e Giove in Trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi, metterete in campo strategie per ottenere visibilità. Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia. Aquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiuri contro di voi all'ennesimo programma che salta. Ma sono solo contrattempi. Saturno vi infastidisce, determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii. Pesci, è bene che chiediate consiglio a un amico fidato, prima di giungere a una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti. Pretendete chiarezza.